Rafforzare la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni sfruttando le nuove opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dagli assistenti virtuali ai software di ultima generazione. E' questo l'impegno di Formats PA, l'ente per l'ammodernamento delle istituzioni che fa capo al Dipartimento della Funzione Pubblica, presentato in un incontro alla Camera di Commercio a Palermo. Uno sforzo che parte dal sostegno alla transizione digitale dei piccoli comuni attraverso il progetto FAST. Spesso queste realtà hanno pochi dipendenti, hanno problemi legati alla loro situazione geografica. Quindi in questo senso il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto questo progetto che stiamo attuando, che vede impegnati nella regione siciliana 12 comuni. Da Alimena a Bivona, da Floresta a Marianopoli, le amministrazioni coinvolte possono così utilizzare i nuovi software per l'elaborazione degli atti pubblici. L'altro progetto presentato, Linea Mica, riguarda invece i servizi di assistenza virtuale a enti e cittadini. Abbiamo realizzato un chatbot di ultima generazione che consente di dare delle risposte sempre più perfezionate ad un'amministrazione che ad esempio vuole sapere come muoversi nell'ambito dell'uso dei fondi del PNRR, oppure sugli open data, oppure in termini di comunicazione. Una scommessa che può essere vinta anche grazie alle risorse in arrivo dall'Europa. Non è soltanto un problema di ponte sullo stretto, è un problema di creare dei ponti fra cittadini e amministrazione che le nuove tecnologie possono assolutamente rendere possibili.